ciao lei è appassionata di palle ti piace qua? le ball, ball, ball palla, palla vai pure in piscina Giulio non ti preoccupare ma no, dovete stare anche un po' da sole dopo arrivo come sta con la bambina? sto facendo il filmino dopo arrivo fai tranquillo ciao ciao dai dai tira la palla al papà tira la palla al papà tira le palle al papà ah qua tu è il fai ah 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 Grazie.